Giù le mani dalla Juventus è la scritta bianca, cratteri cubitali su uno sfondo rosso che è comparsa su tre quotidiani nazionali. Libero, La Verità e Il Giornale hanno infatti mostrato questa inserzione a pagamento con una firma emblematica, 8 milioni, che non sono i soldi spesi o incassati dalla Juve per qualche plusvalenza, ma sono all'incirca i tifosi della Juventus censiti in Italia. Non è ancora emerso chi sia stato il committente di questa inserzione, naturalmente lo sanno gli editori, ma sappiamo che è costata circa 2-3 mila euro per singolo giornale. Quindi un sacco di soldi spesi da qualcuno per dire che cosa? Che le istituzioni non devono mettere le mani addosso alla Juventus. Ma il problema sono davvero le istituzioni che mettono le mani addosso alla Juventus? O è la Juventus per il tramite dei suoi dirigenti che negli anni ha commesso forse delle irregolarità? Non voglio continuare a ripeterlo, ma si sta continuando a guardare il dito e non la luna. La Juventus è implicata in questioni giudiziarie, non perché qualcuno si è svegliato la mattina e ha detto diamo addosso alla Juventus, ma perché ci sono tantissime prove che la Juve potrebbe avere commesso delle irregolarità piuttosto gravi in diversi anni. E quindi la magistratura, sportiva e ordinaria, sta cercando di vederci chiaro. Poi si può pure arrivare alle assoluzioni, ma un processo è necessario per capire dove sta la verità. E io direi giù le mani della Juventus. Vero, ok, ma forse bisognava dirlo a quei dirigenti che mettevano le mani sulla Juventus per gestirla in maniera abbastanza discutibile. Oppure questi 8 milioni di Juventini devono avere i paraocchi e pensarla sempre alla stessa maniera tutti quanti, e cioè che chi accusa la Juve è anti-Juventino vuol male alla Juve, sta attaccando la Juve, mentre la giustizia sta da un'altra parte. E che quindi non dobbiamo criticare i dirigenti che ci hanno messo in questa situazione perché loro sono dei santi, ma sono semplicemente bistrattati dal sistema. Cioè, alla fine dove porta questa mania di persecuzione? A non vedere la realtà, purtroppo. E nel frattempo si parla degli esiti della campagna di boicottaggio delle pay tv, disdetta DAZN, disdetta Sky. Proprio il giornale ha fatto emergere un dato eclatante. Si è parlato di circa mezzo milione di disdette in poco tempo dopo la sentenza di condanna della Juventus a 15 punti di penalizzazione in campionato. Dati che non sono stati confermati, non si sa in effetti quante siano state le disdette, i calcoli forse sono ancora in corso, e giustamente sono dati che soltanto DAZN o Sky possono rivelare, perché sono dati che appartengono alle rispettive aziende, non sono dati pubblici. E credo che si guarderebbero bene entrambe le aziende dal far sapere realmente a quanto ammonta questa ondata di disdette, che per loro sono soldi e sono entrate vitali. Che poi, come ho già detto, DAZN e Sky non hanno fatto nulla di male, semplicemente hanno acquistato i diritti tv per trasmettere in particolare la serie A. E non li hanno nemmeno acquistati dalla FIGC, ma dalla Lega Serie A. E in questo momento tra FIGC e Lega Serie A c'è anche una certa battaglia politica in corso. Cioè le due parti non vanno neanche d'accordo, quindi se fai del male alla Lega Serie A non è che fai del male alla FIGC. A prescindere che, come ho già detto, disdire DAZN toglie soldi a DAZN e non alla Lega Serie A. E togliendo soldi a DAZN e a Sky si tolgono soldi alle famiglie, perché ci sono dipendenti di queste aziende che rischiano il posto. E mi viene da dire, per la Coppa Italia come ci regoliamo? Canale 5 le partite le trasmette gratis, quindi non si può fare nessuna disdetta. Allora, per coerenza, bisognerebbe tenere la tv spenta. Oppure, siccome è gratis, la Coppa Italia ce la guardiamo? Ma a parte questo, sono convinto che la gran parte di coloro che hanno effettuato la disdetta all'EPTV rientrerà molto a breve. Perché se sono appassionati di calcio, devono guardare le partite di calcio. E quindi non c'è un reale timore per gli abbonamenti della prossima stagione. Certo, con la Juve in B le cose potrebbero cambiare molto, ma fondamentalmente si tratterebbe solo di guardare la Serie B insieme alla Serie A. E quindi forse sarebbe un motivo di maggiori ricavi, non minori. Al di là di questo vento del boicottaggio, che però, ripeto, non porta a nulla se non a non consentire a chi disdice di guardare le partite. Oltre a mettere a rischio tanti posti di lavoro. Ma a prescindere da come andranno le cose e dalle mie previsioni che possono essere naturalmente del tutto sballate, mi fa specie che si spendano tanti soldi da parte appunto di qualche ignoto per lanciare un messaggio al sistema. Mentre per tutti questi anni in cui la Juventus è stata nel sistema e forse con i suoi dirigenti ha operato molto male, si stava zitti ed anzi si difendevano e si esaltavano certe operazioni abbastanza dubbie. Ma forse un giorno, se dovessero esserci delle sanzioni definitive, si capirà e si accetterà il fatto che la colpa, quando uno viene condannato, non è del giudice, ma è di chi viene condannato per quello che ha fatto. Grazie a tutti.